bentornati oggi vediamo com'è possibile andare a migliorare un'immagine presa da internet dal cliente che chiede di realizzare un post social con una foto in qualità so già che l'impresa sarà ardua perché quando arriva una foto di questo tipo come possiamo vedere è abbastanza piccola andiamo a vedere che cosa si può fare per cercare di renderla un po meno piccola innanzitutto andiamo a ridimensionarla e io ho scoperto che mantieni i dettagli 2.0 funziona molto bene per questo tipo di lavorazioni io vado a dargli 1400 anzi diciamo una bella cosa altezza 1080 così siamo più tranquilli a questo punto senza riduci disturbo sarebbe così se io vado ad aumentarlo vediamo che viene lisciata un pochino possiamo trovare una via di mezzo per cui l'abbiamo ingrandita un pochino ma senza mostrare il fianco proprio in quella maniera scandalosa e gli diamo ok ok è già un pelino meglio adesso un'altra cosa che voglio fare è assegnare un profilo colore perché qui profilo io invece voglio quanto meno cioè già si vede la differenza proprio subito adesso possiamo fare due cose potremmo agire sul bilanciamento del bianco oppure sulla correzione colore selettiva proviamo prima ecco sbagliato proviamo prima col bilanciamento del bianco perché non si sa mai che magari finiamo prima abbastanza empirico perché con un'immagine così bisogna vedere se quello che faccio la distrugge oppure no ok vediamo e a me sembra meglio abbiamo tolto un po di un po di colorazioni strane vediamo se con correzione colore selettiva si può migliorare qualcosa ok non mi sembra malvagio andiamo a vedere un prima e dopo secondo me è decisamente meglio senza contare che abbiamo triplicato la dimensione cos'altro possiamo fare ovviamente ingrandendo la mostra il fianco subito è una cosa che si potrebbe fare magari è questa senso che potremmo recuperare un po di dettaglio qui quest'area mi sembra oltremodo scura anzi non escludo che sia stata scurita di proposito perché qui o c'è un'ombra forse è stata proprio scurita di proposito così è palesemente troppo però almeno vedo quello che sto facendo ok a questo punto un'altra cosa che potremmo fare non avrò esagerato se ho esagerato dai un'altra cosa che si potrebbe fare a questo punto e aggiungere magari una vignettatura e questo si può fare in diversi modi ma io sono affezionato a questo metodo con con un livello riempito di nero e poi andiamo a fare una selezione ovale che andiamo a riempire in questo modo dopodiché andiamo a sfumare i bordi di parecchio e poi ovviamente diminuiamo anche l'intensità del livello ok ok questo era l'inizio e siamo arrivati a una cosa del genere secondo me ancora troppo diciamo 20 ecco sì così mi piace ok come prima e dopo direi che c'è una bella differenza ora diciamo che così diciamo che così avremmo finito se vogliamo fare ulteriormente i fenomeni possiamo aggiungere qualche effetto di questo tipo per esempio si potrebbe aggiungere qualche light click per renderla un po più vivace questo è assolutamente nell'ambito del gusto personale perché non è assolutamente né obbligatorio né niente andiamo a mettere una maschera perché non voglio assolutamente rischiare che si veda questa riga quindi una cosa del genere e poi e poi una cosa del genere e ok e questa è una cosa a questo punto si potrebbe aggiungere qualche color look up table per dargli un pochino di come si dice un pochino di coerenza e uno che a me piace molto è questo che ovviamente così è troppo adesso lo vado a diminuire ok questo mi piace però io lo voglio solamente sui toni chiari quindi vado a rimuoverlo quanto più possibile dai toni scuri ok e allo stesso tempo potrei aggiungere un bel night from day e questo andrà a fare la cosa inversa ovvero rimuoverlo da tutti i chiari ok ne lascio solo un po nelle aree più scure in questo modo se troppo ok una cosa del genere e diminuiamo anche l'opacità del livello ok così vedete è visibile solo nelle ombre nelle aree proprio molto scure e sui sedili ok quindi siamo passati da una cosa di questo tipo a una cosa di questo tipo ripeto siamo un po nell'ambito del gusto personale diciamo che qualcosa è cambiato